Mister Di Fabio, le faccio subito la domanda secca. Quanto fa male perderla così al 96esimo con un tiro che poi si va a mettere praticamente all'incrocio dei pali? Fa male perché la squadra aveva fatto una grandissima partita, era andata sotto di un uomo e nonostante tutto era andata in vantaggio, non aveva rischiato niente fino al 90esimo in pratica. Poi dopo gli episodi di cambio una partita perché abbiamo preso due gol che secondo me lascia stare l'ultimo che è un euro-goal che però magari avevamo un infortunio del nostro capitano, non eravamo assi bene quindi nei gol degli avversari un po' di responsabilità ce li abbiamo perché le partite finiscono sempre al centesimo minuto quindi dobbiamo stare sempre attenti e concentrati e vanificare una vittoria che sembrava ormai scontata per come eravamo messi in campo, per quello che non stavamo soffrendo niente. Sicuramente dispiace tanto. Grazie mille coach. Prego. La Juventus aveva Cristiano Ronaldo invece il matese c'è a Conju che salta due metri, forse qualcosa in più e la pareggia e poi coach, mister, come ti vogliamo chiamare, mister urbano. Quel tiro di Yannet dalla tribuna l'abbiamo spinto tutti quanti noi perché ci voleva questa vittoria, ci voleva soprattutto ribaltarla in questo modo. Sono molto molto contento per i ragazzi perché hanno fatto secondo me una grandissima partita dal primo all'ultimo minuto. Conju ci ha dato la possibilità di accorciare il risultato però non è la prima volta che lo metto davanti è già la seconda volta che anche con il Nereto negli ultimi minuti. Infatti lui mi ha detto a fine gara se possibilmente se qualche altra partita capiterà vuole arrivare a cinque gol. C'è il po' di cinque gol? No, però lui mi ha detto vorrei arrivare a cinque gol. Al di là di questo Yannet ha fatto un gran gol, ma ce l'ha questi colpi. Però credo che tutta la squadra abbia fatto una grandissima partita contro una squadra che stavamo molto difficile da affrontare. Primo tempo contro Vento abbiamo veramente rischiato poco e nulla perché siamo stati molto bravi e aggressivi su tutte le seconde palle arrivavamo sempre prima. Abbiamo avuto un'opportunità all'inizio per sbloccarla con Bruno, è stato bravissimo il portiere. Però credo che poi abbiamo preso gol nell'unica occasione vera che loro hanno avuto. Ma questo il calcio è così. La cosa bella è proprio questa, la squadra non si è disunita, ha cercato anche in superiorità numerica perché lo sono rimasti in dieci, ma poi soprattutto in parità numerica siamo riusciti prima a pareggiarla e poi a ribaltarla. Questo significa che la squadra ormai sta trovando gli equilibri giusti, ha trovato un'identità, ma soprattutto i ragazzi sono stati eccezionali perché ci tenevano a dare continuità a questi risultati che stiamo facendo. Ci tenevano anche per i ragazzi che stanno fuori, che stanno soffrendo perché sono tanti, le essenze sono tante e anche importanti. Però per me, per un allenatore, questo tipo di prestazioni, poi anche il risultato è fondamentale in questo giochino, fanno soltanto bene. Fanno soltanto bene perché chi probabilmente vedi Agnetta oppure Masi che stavano giocando di meno, oggi hanno fatto tutte e due delle grandissime prestazioni. Fabiano eccezionale su tutti i palloni, ma tutti, senza togliere nulla a nessuno, veramente non farei fatica a trovare un giocatore che ha giocato al di sotto delle proprie possibilità. Mi dispiace per Vincenzo Ricamato perché è un giocatore per noi fondamentale, però ci prendiamo questi tre punti, soprattutto ci prendiamo anche la prestazione. Speriamo in settimana di poter recuperare qualche giocatore, perché adesso abbiamo due o tre sferte difficili, però la classifica comincia a farci sorridere, comincia a essere una classifica che ci fa piacere stare lì e dobbiamo continuare su questa strada. Ester, terza vittoria di fila, non si parla dei singoli, non vogliamo parlare dei singoli, ma vogliamo dare anche un merito ad un allenatore che il difensore lo manda lì a saltare e che poi la sostituzione azzecca, la sostituzione di Agnetta che poi la decida e che regala i tre punti. Ma l'allenatore è lì per fare delle scelte, a volte le fa giuste, probabilmente come è successo oggi, a volte le fa anche sbagliate, perché l'importante è che le fa secondo una logica, una logica che è quella della logica del calcio e poi dopo gli episodi vengono determinati spesso anche da un pizzico di fortuna. Congio è stata proprio una scelta, ricordo bene di aver visto bene il cronometro, era il trentasettesimo, gli ho detto vai a fare la prima punta, perché chiaramente poteva essere un giocatore con la sua stazza fisica, sia su spizzata che poteva mandare dentro l'uazin. Anche per l'assenza di alternative lì davanti. Davanti, sulla panchina, sul reparto avanzato non avevo nulla e questa volta per fortuna mi è andata bene. Grazie mille. Grazie a voi. Sapevamo sarebbe stata una battaglia contro Castelnuovo Vomano che vi ha messo anche in difficoltà in alcune occasioni, però poi sei salito in cielo praticamente su quel gol, poi l'abbiamo vinto con un tiro incredibile all'incrocio dei palle di Yannetta, meglio di così non poteva succedere? No, no, è stata, abbiamo fatto una grande partita, sapevamo della forza del Castelnuovo, l'avevamo preparata bene, sapevamo appunto dei rischi che potevamo correre, però secondo me comunque l'abbiamo gestita bene, ci siamo messi lì dietro la linea della palla a soffrire il giusto, non abbiamo rischiato tanto, abbiamo subito quel gol secondo me non un po' sfortunato, però siamo stati molto bravi a crederci fino alla fine e questi due gol ci ripagano ampiamente. Raccontaci anche un po' lo spogliatoio, quanto è bello poi vincere l'anno 96esimo, andare nello spogliatoio e diciamo così, raccontare anche ai tuoi compagni di squadra con degli abbracci quello che hai vissuto in campo. No, è stata una liberazione, non sarebbe male vincerle prima perché comunque arrivare al 96esimo così è tosta, però poi così è ancora più bello, ci siamo appunto abbracciati tutti, abbiamo urlato proprio, ci siamo liberati ecco dalle fatiche della partita e siamo contentissimi. Terza vittoria, adesso arriva il Castelfidardo fuori casa, ti chiedo il Matese si è sbloccato dopo un inizio difficile oppure c'è ancora una squadra in rodaggio? Sì, inizio difficile se vogliamo perché comunque siamo partiti con una sconfitta, però abbiamo perso contro secondo me un'ottima squadra la prima, poi sì abbiamo avuto bisogno di quel periodo di rodaggio diciamo, ora secondo me siamo più quadrati, più squadra e quindi alla lunga i risultati arrivano, dobbiamo però tenere bene i piedi per terra perché è ancora lunghissima e continuare su questa strada. Grazie mille, grazie a te. Grazie.